la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa di Uno News sfogliamo le pagine dei quotidiani andiamo sul mattino nazionale si parla ancora in primo piano della guerra in Ucraina vediamo che adesso c'è lo scontro tra Russia e USA vediamo il titolo per il mattino USA Putin tensione alle stelle Mosca convoca l'ambasciatore da Biden parole inaccettabili la tv russa persi 10.000 soldati a Kiev missili sul centro commerciale Odessa bombardata dal mare spari sui manifestanti disarmati disarmati e poi gli articoli correlati reportage da Mario Pol cimitero a cielo aperto ma non ci arrenderemo mai ancora le altre notizie ci spostiamo di fondo lo scenario la vera arma dell'Occidente e il dialogo con Pechino e poi la gaff di Johnson la Brexit tallone d'Achille dell'Europa continuiamo ci spostiamo di spalla vediamo Conte tutto regolare missione covid quando i russi volevano sanificare i nostri uffici e poi la videoconferenza al Parlamento Europeo di Zelensky parola Zelensky defezioni Movimento 5 Stelle lega presente ancora troviamo l'intervista a Mikhail Shishkin avevo previsto questo conflitto e vi dico lo zar non si fermerà nella fotonotizia invece la giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia per la giornata della memoria e dell'impegno le manifestazioni in tutta Italia anche a Napoli vediamo liberateci dai clan il grido di Napoli in 50.000 al corteo di Libera Mattarella la mafia si può vincere e poi ancora come 40 anni fa la lotta ritrovata ma senza i partiti andiamo in basso intervista ad Ederson Salernitana iniziamo a vincere prima la salvezza poi il mondiale voglio segnare alla Rechi queste le parole di Ederson nei box sotto il titolo di testata invece Chiara Muti al San Carlo la bellezza di Mozart per dire no alla guerra e poi invece l'importante sfida che attende la nazionale italiana per la qualificazione ai mondiali la carica di Mancini andremo ai mondiali l'obiettivo è anche vincerli questa la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti sulla prima pagina del mattino di Salerno le parole del prefetto di Salerno Francesco Russo per quanto riguarda il sistema di accoglienza messo in campo nel salernitano per accogliere i profughi dall'Ucraina vediamo le parole di Francesco del prefetto russo attenti alla finta solidarietà aiuto ai profughi appello del prefetto rivolgetevi a comuni associazioni e protezione civile minori non accompagnati di fidate da chi propone percorsi di adozione finora accolti 1700 rifugiati non è possibile al momento quantificare il numero di quelli che arriveranno non data migratoria diversa dalle precedenti in Italia piccoli gruppi monitoraggio complesso torneremo su questo argomento nelle pagine successive ora andiamo avanti per quanto riguarda il focus sulle iscrizioni nelle negli istituti superiori vediamo liceo boom di iscrizioni nella scuola post pandemia e poi ancora torniamo a parlare della guerra in Ucraina del riedell'arrivo in Italia di tanti profughi che stanno fuggendo appunto dalla guerra ci spostiamo quindi di fondo la storia fuga dalle bombe per salvare le figlie ma Giulia voleva restare in Ucraina e poi Vika torna a Eboli da marito e bimbi portando a spalla la madre malata cambiamo argomento andiamo a centro pagina rifiuti dalla Tunisia primi esami al porto su nove container summit in prefettura telefonata con i giudici di potenza non si intracci l'attività dello scalo e poi la politica via il segretario del PD annunziata sul PD l'incubo commissariamento nella foto notizia la l'intervista al giocatore della salernitana Ederson salvo la salernitana e sogno il mondiale impariamo a vincere Mamadou KO stagione finita per lui in basso nelle foto notizie vandali a vietri distruggono 32 fioriere volevano volevamo divertirci e poi il dibattito sull'area sud summit sull'alta velocità troppe case da demolire per il primo tratto battipaglia romagnano questa è la prima pagina del mattino di salerno vediamo invece i titoli per il quotidiano le cronache in apertura la storia della fuga dall'ucraina vediamo victoria e salva presto sarà deboli ed ecco raccontata la sua storia sul quotidiano le cronache boom dell'iniziativa di le cronache baronisti 30 bambini ucraini accolti alla scuola san francesco severi la preside figliolia figliolia consegna i pacchi a padre ivan andiamo avanti sempre per la scuola il no alla mafia degli studenti del regina margherita no alla mafia l'incontro commovente con la mamma simonetta andiamo in alto la politica via il segretario del pd annunziata si dimette de scontro tra de luca e letta e poi la denuncia di severino nappi caso scabec 935 mila euro di consulenze esterne solo nel 2021 a centro pagina il blitz a napoli detenuti spacciavano in carcere con la complicità degli agenti tra i detenuti coinvolti anche il battipagliese marco molinaro affilato al clan giffoni il blitz a napoli ma perquisizioni anche al carcere di forni e poi l'impegno di don ciro della caritas famiglie sull'astrico in aumento le aiutiamo per le notizie di fondo alla quiete dipendenti senza stipendio in agitazione mentre annunciata inferiore inchiesta zuppone oggi interrogatori di garanzia dei tre arrestati questi i titoli sulle nostre prime pagine torniamo ora sul mattino nazionale andiamo ad approfondire i temi legati a quanto sta accadendo in ucraina come si sta muovendo l'unione europea vediamo le azioni contro mosca pressing di biden sull'unione europea maestallo sulle sanzioni vertice telefonico con draghi macron shorts e johnson unità di intenti ed azione sull'energia il veto dell'ungheria germania e italia si adeguano stretta in caso di escalation per le banche di affari il pil russo a causa delle misure della guerra in calo tra i 10 e il 15 per cento vediamo una parte dell'articolo come spesso accade in diplomazia la notizia sta negli omissis nel non detto e perciò indicativo che biden e mario draghi non abbiano fatto cenno a nuove sanzioni contro mosca dopo il vertice telefonico assieme al presidente francese emmanuel macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz oltre che al premier britannico boris johnson un silenzio che la dice lunga sulle difficoltà di usa e gran bretagna spingere l'europa a seguire il loro esempio interrompendo l'importo di petrolio e gas dalla russia così con ogni probabilità dal consiglio dell'unione europea di giovedì salterà fuori un quinto pacchetto di sanzioni ma non sul fronte energetico a meno che spiegano fonti della commissione non vi fosse un ulteriore escalation militare con la presa di chiev da parte delle truppe di vladimir putin in questo caso potrebbe essere deciso uno stop selettivo alle forniture energetiche russe colpendo petrolio e carbone ma non il gas da cui dipendono fortemente germania italia e ungheria che ha già annunciato il suo veto andiamo avanti andiamo in basso lo scenario nucleo di 5.000 uomini muove i primi passi l'esercito comune europeo bruxelles approvata la bussola strategica soddisfatto il ministro guerini compiuti passi molto importanti chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti parliamo ora dell'intervento del presidente dell'ucraina zeleschi in parlamento vediamo zeleschi in parlamento tra i mal di pancia movimento 5 stelle ma i leghisti ci saranno il leader ucraino chiederà aiuto all'italia agli interventi di draghi fico e casellati una trentina di defezioni tra gli ex grillini conte no a nuove sanzioni e spese belliche c'è il gruppo trasversale dei neneisti quelli non schierati con la nato e neppure con la russia letta e meloni alta atlantisti sui fondi militari la fronda di pentastellati e sinistra radicale e chiudiamo anche questa pagina ora passiamo invece alla pagina di cronaca cambiamo totalmente argomento vediamo l'incidente la tragica bravata in primo piano folgorato sul tetto del treno voleva solo farsi un selfie andiamo a torino dove un quindicenne in gravi condizioni scaraventato a terra dalla scarica elettrica il ragazzo soccorso da un gruppo di amici che escludono l'ipotesi del train surfing indagano procure polfer il convoglio era fermo in un'area della stazione vicino a un centro commerciale a firenze due mesi fa un altro giovane era precipitato in circostanze analoghe dal tetto della sua ex scuola andiamo in basso morta sami da 15 mesi in come genitori finalmente è libera la lettera della famiglia di samanda di samantha dinca hanno staccato la spina ora basta con le ipocrisie e con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa sfogliamo le pagine dei quotidiani salernitani andiamo sul mattino di salerno lo abbiamo visto in apertura sulla prima pagina le parole del prefetto francesco russo del prefetto di salerno per quanto riguarda il sistema di accoglienza le raccomandazioni del dottor russo vediamo attenzione al business della finta solidarietà questo il titolo di oggi sulle pagine di primo piano del mattino di salerno il prefetto ai salernitani rivolgetevi a comuni associazioni e protezione civile accolti al momento mille settecento profughi ma il numero di quelli in arrivo non è quantificabile queste parole il numero dei profughi ucraini in arrivo a salerno non è al momento quantificabile il fenomeno di migrazione è monitorato quotidianamente la regione campagna è sicuramente tra quelle più attive sul fronte dell'accoglienza poiché come era prevedibile i cittadini ucraini privi di legami familiari amicali presso cui ottenere ospitalità si sono riversati nelle città sedi di ambasciate consolati dunque roma milano bologna e napoli anche la provincia di salerno sta facendo la sua parte al momento ha accolto circa mille settecento profughi così inizia l'intervista rilasciata dal prefetto di salerno francesco russo per quanto riguarda il sistema di accoglienza messo in piedi per aiutare tanti profughi ucraini che stanno raggiungendo l'italia per fuggire dalla guerra ondata migratoria diversa da quelle a cui siamo abituati e meno controllabili ucraini ospitati da anche da parenti e conoscenti il nodo dei minori non accompagnati e delicato diffidate da organizzazioni che propongono percorsi di adozione queste le raccomandazioni e poi troviamo l'iniziativa in polonia per consegnare gli aiuti il viaggio di francesco luigi e michele tre giovani ebolitani hanno raggiunto il centro di accoglienza di presville presville impossibile restare indifferenti a quella disperazione torniamo andiamo avanti torniamo a parlare invece dell'emergenza pandemica ma soprattutto del post pandemia per quanto riguarda la scuola si sono chiuse da poco le iscrizioni ai nuovi percorsi di studio scolastici per quanto riguarda la situazione degli istituti eh superiori fa il punto il mattino sulle eh pagine di primo piano vediamo nella scuola post covid c'è il boom dei eh licei flop invece dei professionali per quanto riguarda la scelta degli studenti la scelta del 57 per cento dei ragazzi che a settembre andranno alle superiori media più alta rispetto a quella nazionale con il primato degli scientifici sono 3526 gli iscritti trend positivo per l'alberghiero piano di studi fortemente calato sulla realtà del lavoro alle stelle i licei frena la formazione professionale a settembre si tornerà in classe col boom dei licei classici che rispetto all'anno scorso collezionano 421 studenti in più ma a trionfare il liceo scientifico che resta il super preferito dagli studenti delle superiori a Salerno e provincia la formazione liceale sfonda la media nazionale delle preferenze che si attesta sul 55 per cento e raggiunge per il salernitano quota 57 per cento la mappa la mappa completamento dell'inserimento anagrafico da parte delle scuole del numero degli alunni iscritti emerge la mappa della richiesta della nuova offerta formativa per il prossimo anno 2022 2023 nell'anno scolastico che dovrebbe dire finalmente addio alle quarantene alla didattica mista digitale che hanno caratterizzato l'epoca covid degli alunni iscritti al primo anno dei licei sfondano il tetto delle 6137 preferenze e andiamo avanti cambiamo argomento ruggi 300 mila euro ai medici per i turni al pronto soccorso un piano per limitare il sovraffollamento e le lungaggini su diagnosi e cure intanto alla quiete e stato di agitazione chiudiamo questa pagina andiamo avanti andiamo sulla pagina delle notizie della piana del sele del cilento del vallo di diano e dei picentini in apertura parliamo di alta velocità per quanto riguarda in particolare il primo tratto battipaglia romagnano summit dei sindaci della piana del sele per quanto riguarda le operazioni di esproprio vediamo summit sull'alta velocità troppe case da abbattere spostate il primo tratto dibattiti dibattito tra rfi sindaci e cittadini del dei territori interessati anche nodi idrogeologici sull'asse battipaglia romagnano l'ascolto dei territori attraverso il dibattito pubblico per la realizzazione dell'alta velocità tocche comuni che interesseranno il primo tratto battipaglia romagnano al monte si entra nel vivo delle discussioni e soprattutto dei problemi dove passa la linea quali aree con abitazioni attività produttive attraversa cosa accadrà al loro ieri gli incontri si sono ottenuti a contursi terme in mattinate a campagna nel pomeriggio andiamo a eboli incidente a catena ferita una donna incinta a battipaglia invece sosta selvaggia fioccano multe dopo anni di grazia andiamo in basso eboli case popolari acer sette nuovi sgomberi un mese di tempo per abusivi e morosi a vibonati tomba lucana senza pace il sindaco valorizziamola è rimasta esposta per anni nelle alle intemperie in attesa di una dignitosa collocazione che fino ad oggi non è arrivata in questi giorni si è la svolta destinata a cambiare il destino della tomba lucana venuta alla luce durante i lavori per il gasdotto è stata ritrovata nel 2014 non è stata mai aperta è rimasta depositata per otto anni in un parcheggio pubblico alla frazione villa mare in questi giorni il sindaco borrelli è venuto a conoscenza del reperto e si è attivato per il suo recupero andiamo di spalla panchine smart seduti sul futuro a ponte cagnano faiano e a torri orsaia aule della scuola con nomi delle vittime della mafia chiudiamo anche questa pagina chiudiamo il mattino vediamo invece alcune in alcune notizie del pubblicate sul quotidiano le cronache partiamo dalla politica nelle notizie di primo piano il caos nel pd vediamo caos nel pd si è dimesso il segretario leo annunziata per motivi personali dimissione nell'aria da più di una settimana l'ennesimo strappo tra vincenzo de luca ed enrico letta per la successione c'è già stefano graziano anni fa a capo del partito campano e andiamo avanti il fedelissimo di de luca assicura il suo sostegno al partito e poi in basso caso scabec consulenze nel 2021 per 935 mila euro l'interrogazione a severino nappi si faccia chiarezza fare chiarezza sulla situazione finanziaria della scabe che suppresunte irregolarità ed eventuali mancanze nel ruolo di controllo e vigilanza da parte del presidente dell'aggiunta de luca e questo l'oggetto dell'interrogazione presentata dal consigliere regionale della campagna severino nappi che sarà discussa in occasione del prossimo question time e poi will fpl rinnovo contrattuale al palo per i tanti lavoratori della sanità salvato non possiamo aspettare più chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti parliamo ora invece del caso rifiuti dalla tunisia andiamo sempre nelle pagine del quotidiano le crona che parla il presidente della provincia strianese vediamo rifiuti dalla tunisia tavolo tecnico in prefettura per concordare i controlli strianese come istituzioni siamo chiamati a dover eseguire le disposizioni che saranno dettate dalla procura di potenza mennelle rifiuti ospedalieri vanno destinati in un sito ad hoc e quel sito non è serre vediamo non mollano la presa i sindaci di cittadini della piana del sele sulla vicenda dei rifiuti rientrati dalla tunisia un nuovo tavolo di concertazione è in programma nei prossimi giorni per capire quale sarà la strada da prendere su questa vicenda che vede rifiuti destinati al sito di persano intanto ieri mattina in prefettura si è tenuto un incontro per tranquillizzare i cittadini garantendo loro tutte le dovute analisi e controlli che faranno capire che tipo di rifiuti ci sono prima di trasferirli definitivamente sul sito scelto e con questa pagina termina la nostra rassegna stampa vi ricordo l'appuntamento alle 13 e 45 con il nostro tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti